Competenze per il ricollocamento e sviluppo dell'autoimprenditorialità e del lavoro individuale. Si tratta di Crisalide, progetto interamente finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo della Regione Toscana. Il servizio è rivolto a disoccupati, inoccupati e inattivi che abbiano compiuto il trentesimo anno di età, con voglia e desiderio di aprire un'attività o di sviluppare un'idea imprenditoriale. L'idea imprenditoriale è importante, ma dopo l'idea imprenditoriale occorre fare un piano di impresa adeguato, la finanza conta molto e quindi tutti questi elementi fanno sviluppare un'impresa, altrimenti poi le imprese scessano dopo poco perché non si è fatto bene il piano di impresa, quindi è fondamentale e avere gli elementi è un impegno di tanti professionisti, noi li mettiamo a disposizione. Il progetto prevede tra le numerose azioni anche l'apertura di uno sportello in confesercenti. Nella pratica il progetto è composto da tre azioni, si parte con uno sportello informativo gratuito a disposizione di tutti coloro che hanno un'idea imprenditoriale ma che non sanno se sia realizzabile, concretizzabile. A seguire ci sarà un'attività formativa individuale per 11 persone selezionate che hanno partecipato allo sportello informativo. Infine, per ultimo ma non meno importante, la terza azione prevede l'erogazione di sei seminari formativi tematici su temi specifici che sono aperti a tutti, anche a chi ha già un'impresa e magari vuole aggiornarsi o imparare temi specifici. Al momento non è prevista la selezione, quindi invitiamo tutti coloro che sono interessati comunque ad accedere allo sportello informativo. È chiaro che le caratteristiche del progetto prevedono che le persone siano disoccupate o inoccupate e che abbiano compiuto 30 anni, però al momento possono accedere tutti.